Le fiamme gialle del comando provinciale di Treviso, nell'ambito di specifiche attività ispettive volte alla tutela del Made in Italy, hanno eseguito quattro distinti controlli presso aziende tessili a Villorba, Spresiano e Pregranzinol. In tre dei quattro laboratori tessili ispezionati sono state riscontrate condizioni di assoluto degrado e pericolo, tra cui l'impiego di un lavoratore irregolare e ripetute violazioni delle normative urbanistiche. Queste gravi irregolarità hanno portato i finanzieri del gruppo di Treviso a sequestrare d'urgenza tra immobili e 69 macchinari e banchi da lavoro. L'intera operazione è stata successivamente convalidata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale locale. Gli amministratori delle tre imprese di nazionalità straniere operanti su commesse ricevute da aziende locali sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Treviso per violazioni delle norme sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro, sfruttamento dei lavoratori ed esecuzione di opere edilizie abusive. Inoltre sono state rilevate svariate violazioni delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, come la presenza di macchinari privi di sicurezza negli organi mobili, condizioni igieniche precarie, mancata valutazione dei rischi aziendali, assenza del medico per la sorveglianza sanitaria e omissione del documento di valutazione dei rischi e della formazione del personale, nonché l'assenza di presidi di assistenza medica di emergenza. Per quanto riguarda le violazioni urbanistiche, nei tre laboratori sono state trovate sette stanze abusive, di cui cinque adibite a dormitori e due a cucine. Questi locali venivano utilizzati dai lavoratori per riposare e rifocillarsi tra i turni di lavoro, circostanza che ha permesso di ipotizzare il reato di caporalato per una delle aziende tessili coinvolte. L'approfondimento della situazione delle quattro aziende tessili ha permesso di accertare pendenze tributarie per oltre un milione di euro da parte delle dieci ditte, tutte amministrate da stranieri, che dal 2013 hanno gestito queste imprese. Si trattava di vere e proprie aziende apri e chiudi, che dopo esser diventate insolventi con l'amministrazione finanziaria, trasferivano personale e macchinari alla nuova impresa costituita ad hoc, continuando a operare nello stesso luogo con gli stessi clienti e fornitori, cambiando solo il nome e la partita IVA.